Una palla persa a testa nei primi possessi dell'ultimo quarto, situazione che non è cambiata, 54-30, 46, Venezia con 40 secondi che sono stati giocati, esce Ortner, rientra Marquez Hainz, esce anche Filloi e dunque rientra Hainz per la formazione di Walter De Raffaele. Dunque Marquez Hainz in campo, punta tutto su Hainz in quest'ultimo quarto Walter De Raffaele perché Hainz fino a questo momento silente, ha 0 punti con 0 su 4 dal campo Marquez Hainz, fallo di Hainz, attenzione quarto fallo di Hainz, quarto fallo di Hainz che è il migliore con Filloi di Venezia. In questo momento il terzo quarto diciamo che sono stati due giocatori che hanno un po' spinto Venezia a riavvicinarsi, però insomma è chiaro che quando giochi così aggressivo ci può stare, ma deve rimanere in campo che questo può essere il momento decisivo della partita. Di Toto Forrai contro Marquez Hainz, una serie di palleggi, ancora Forrai, c'è, vediamo il fallo e qui l'esperienza di Toto Forrai, ha avuto la meglio, andrà in lunetta con i giri lì. Giocato da playground, giocato da un ragazzo da uno e quando gioca a palacanesto vuol far canesto. Mette a segno il primo tiro libero Toto Forrai che è un po' con Buscaglia a Tiglio, la storia di Trento, sempre presente nelle promozioni importanti di questa squadra. Forrai fa due su due al cronometro fermo e torna in doppia cifra, il vantaggio di Trento, 56 a 46 per Toto Forrai e doppia cifra, pure stasera 11 punti. Toto Forrai va a bloccare da Sinog, c'è il fallo di Ben Hortner, fallo di Benjamin Hortner e sono tiri liberi con Venezia che manda in lunetta l'uomo migliore, l'uomo migliore, vediamo un po' a cronometro fermo, ovvero Toto Forrai. E' puntualmente sbaglia il primo Toto Forrai e quindi si resta fermi sul 56 a 46, Toto Forrai che poco fa aveva fatto due su due. Secondo tiro libero a segno 57 a 46, a segno Toto Forrai. Toto Forrai che sale a quota 12 punti, partitona pure stasera di Forrai. Benjamin Hortner, grande giocata di Benjamin Hortner che parte in palleggio con la mano sinistra e va a schiacciare 57 a 48. Non è una giocata da centro questa, Tidio. No, perché è stato più aggressivo, Owe lo marcava da vicino, l'ha sfidato, andare dentro, lui è andato dentro e senza fare sconti ha finito con una schiacciata. E sono i primi due punti da parte di Hortner, occhio al tentativo sul ferro da parte di Hogg, rimbalza ancora di Venezia, 57 a 48, partita tutta da giocare. Stone sotto per Hortner che sbaglia l'appoggio, forse c'era fallo qui, su Hortner infatti se la prende con gli arbitri. Invece c'è Kraft che va a prendersi il fallo da Julian Stone che non è per niente affatto d'accordo e rischia a fallo tecnico Julian Stone. C'è Walter De Raffaele una furia, Walter De Raffaele una furia, aria di fallo tecnico, aria di tecnico per Walter De Raffaele. E se l'è preso, se l'è preso, allora due tiri liberi per Aaron Kraft, tiro libero per il fallo tecnico, palla per Trento nel momento più importante della partita. Con l'aiuto del primo ferro, segna il primo tiro libero, Aaron Kraft, che sta tirando i liberi per il fallo subito, 58 a 48. Due su due per Aaron Kraft, 59 a 48, più 11, ora Aaron Kraft resta lì, in lunetta per battere il tiro libero del tecnico. Fischiato a volte De Raffaele e fa 3 su 3, anche questo con l'aiuto del ferro, 60 a 48, più 12, tre tiri liberi di un'importanza capitale realizzati dall'ex Ohio State. Toto Forrai per Dastinog, uno contro uno, fa fuori con un dribbling da calciatore, Benjamin Mörtner e poi a faccia a canestro. Che giocata di questo centro assolutamente atipico, ma di grande tecnica. Grande finta di corpo, ha sbilanciato l'avversario, Ortle pensava un'entrata con la mano sinistra e si è buttato all'altra parte. Veramente un movimento di buona tecnica e di buon tocco vicino a canestro. Attenzione perché Trento rivola sul più 14, fallo il terzo di Forrai, 62 a 48, 5,42 al termine della partita. Vediamo un po' in sotto mano la magia di Aaron Kraft che sembrava scaricare il pallone, poi è andato con reverse lungo la linea di fondo campo a trovare un canetto davvero mago che riporta sul più 16, Trento, Stone, errore e adesso sì che è il momento chiave. Siamo alla metà esatta dell'ultimo quarto, Trento più 16, 64 a 48. Il 16 è in grande controllo mentre Venezia ha dato primi segnali, un po' di forzare situazione perché sente forse là il momento che la partita sta andando. Dustin Hogue, ultimi 5 secondi, altro taglio di Schiltz, fallo di Tonut e tiri libri Trento. Altro taglio qui. Altro taglio, altra situazione, un problema, un rebus che è assolutamente stato decisivo in questa partita e che Venezia non è mai riuscita a controllare, mai riuscita a difesa. In lunetta con Schiltz che realizza il primo tiro libero e realizza pure il secondo e ritocca il massimo vantaggio, più 18, 66 a 48. Quattro minuti, 35 secondi al termine della partita che ora è veramente in pugno a Trento. Vediamo Giulia Stone. Filloi, Filloi con un grande grinta, non molla, non molla Filloi. Marcato da Gomez, sceglie lo stop e poi Schiltz va a recuperare il pallone. Va a recuperare il pallone con Toto Forrai che supera la linea di metà campo. Rincorso da Filloi, sotto, Satton va a schiacciare, a depositare, va per Trento, va più che bene così, più 20, 68 a 48, massimo vantaggio. Potremmo dire quasi titoli di coda, titoli di coda sia per la grande difesa, fotografia, grande difesa prima di Trento con Gomez che ha tenuto l'uno contro uno di grande orgoglio di Filloi. Beric, 2 su 2 dalla lunetta, 68 a 50 con la marcatura di McGee su Forrai che vorrebbe fallo. Ancora Toto Forrai che è partita il capitano di Trento. Ancora Schiltz andrà in lunetta per battere tiri liberi, altri tiri liberi e anche Schiltz. Il giocatore nel frattempo quarto fallo di McGee. Ecco, quando si parla di una società ottima, capace, brava nell'intuito, nel pescare i giocatori, Schiltz che è arrivato quasi al termine della stagione regolare per sostituire Marble, che stava andando alla grande tra l'altro, che si era infortunato a Milano in quella partita giocata in maniera straordinaria, in stagione regolare, vinta di 22 punti da Trento con l'infortunio, il doppio fortuno di Marble e di Baldi Rossi. Nel frattempo uno su due di Schiltz, 69 e 50, sono andati a pescare dalla Germania, da Francoforte, questo giocatore che sta facendo le fortune di Trento. E l'hanno anche lì, l'hanno aiutato nell'inserimento. Ma d'altronde quando è un posto è sano, quando tutto funziona, giri col meccanismo ed è normale. E anche le giustizie sportive che ti vanno bene le forze. In acrobazia segno McGee con i giocatori di Trento che chiedevano la violazione di passi. Brutta partita da parte di Tyros McGee, soltanto tre punti per l'ex giocatore di Cremona e Capo d'Orlando. Rimessa per Trento con Peric che già stava andando dall'altra parte. Convinto che la rimessa fosse di Venezia, se la ride, ervoie Peric. E insomma Peric non benissimo a tirio stasera. Cinque palle perse. Sì, è partito subito male, non è riuscito a entrare in partita. Ha subito gli avversari, ha subito in difesa, ha fatto balli, si è anche innervosito. E poi dopo, nonostante uno strappo buono nel secondo quarto, non ha dato continuità alla sua partita. Altro taglio di Flaccadori, tiri liberi. Altro taglio di Flaccadori sull'assist di Toto Forrai. Insomma, gioca in maniera veramente meravigliosa a Trento con questi tagli. Veramente è stata l'arma della partita. Il primo fallo di Jeff Evigiano con tiri liberi di Flaccadori. Indubbiamente è stata anche questa differenza a Tiglio che è spaventosa a rimbalzo. 44 a 23. 44 a 23 è frutto dell'energia, frutto di grande determinazione, la grande volontà. Quella che diciamo del grande cuore. Ecco, alla fine oggi ce n'è stato da Trento, ha avuto più cuore rispetto a quello di Venezia. Flaccadori segna il primo, 70 a 52 e segna pure il secondo. Ancora una volta in doppia cifra. Diego Flaccadori, rientra Ortner, esce Peric, partita finita per lui. 71 a 52, più 19 nuovamente. Per Trento con Julian Stone di gran carriera serve sotto Ortner, lo lasciano tirare. Lo lascia tirare Ogg, segna Ortner. 71 a 54, vediamo con la difesa allungata da parte di Venezia nel tentativo di rubare subito palla agli avversari. Dopo la rimessa a 1 minuto e 36 secondi, time out. Chiamato da Maurizio Buscaglia, 71 a 54. Flaccadori, c'è Schiltz che appoggia il sottomano. La ciliegina di Seven Schiltz, 73 a 54. Pure Schiltz sempre in doppia cifra in questa serie di finale con Venezia. Fallo di Ogg su Ortner che andrà in lunetta perché ora sì che anche Trento è in bonus. Sono due punti questi, perché Ortner aveva sbagliato, ma c'è stata un'interferenza. Crediamo che questi sono due punti. Vediamo un po', vediamo un po' cosa decidono gli arbitri. Se dare a segnare due punti, un autocanestro oppure un tiro libero a Ortner. Intanto è 73 a 55 il tabellone. Ecco gli arbitri, bisognerà, vediamo un po', dovrebbero essere... Ci vorrebbe l'istare play, dovrebbero andare a vedere. Vediamo un po'. Sono convinti di due punti però, credo, Attilio, sai? Due punti, due punti. Sì, due punti, due punti che vengono attribuiti a Venezia. Quindi 73 a 56, ma conta veramente molto poco. 1,19 al termine della partita. Pallone per Trento, 73 a 56. Il punteggio per la formazione allenata da Maurizio Buscaglia. Pallone che per Aaron Kraft, da questi a Flaccadori. Ancora Flaccadori, scambia con Toto Forrai. Ancora Flaccadori. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Palleggia con la sinistra, palleggia con la destra. Ancora con la sinistra contro Tyrus McGee. Una serie di finte di Flaccadori. Un low look e poi l'appoggia a canestro. Ha fatto finta di passare. Sulla sinistra Dustin Nogue. E poi affacciato al vetro. Che cadestro Flaccadori. Sbaglia da tre, vingiato. Spinta di netta di Ortener. E ci saranno i tiri liberi per Dustin Nogue. Flaccadori che è amante del no look. Non è la prima volta che fa una cosa del genere. Non è la prima volta che guarda a destra e passa a sinistra. Oppure guarda a sinistra e passa a destra. Questo è veramente un talento. Viene in mente quanto prima dicevi. Chiediamo l'MVP tra Forrai e Be Gomez. Ma devo dire che anche Flaccadori oggi. Non ha scherzato. Ha fatto una grande partita. Poi si è rapportato anche all'età che ha. La prima, il ruolo della prima finale. Insomma direi che. Assolutamente sì attivo. Dustin Nogue è cortissimo il suo primo tiro libero. Ma adesso sì che non conta nulla. per Trento sbagliare i tiri liberi. Perché siamo 76 a 56. Perché Dustin Nogue fa 1 su 2. Più 20. Più 20 e ridocca il massimo vantaggio. 76 a 56. Da lontanissimo sbaglia McGee. Strappa un altro rimbalzo Dustin Nogue. E ormai manca solo la sirena, Tilio. Manca solo la sirena per sancire il 2 a 2 di Trento. 2 a 2. È davvero una bella, 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 bellissima finale. Ancora Schiltz. Il taglio di Schiltz. Il taglio di Schiltz. Il passaggio di Dustin Nogue. 78 a 56. Adesso addirittura. È show time. Trento massimo vantaggio. Con il canestro di Schiltz. Giulia Sonne sbaglia da 3. Rimbalzo di Flaccadori. E a questo punto credo che non si giocherà più. Perché Trento con Toto Forai credo che non vorrà più attaccare. Vediamo un po'. Soltanto la linea di vita a campo. Fassegno va bene così. Abbiamo vinto di 22. E il finale sarà proprio questo. Trento batte Venezia. 78 a 56. Ed è 2 a 2 nella serie. Domenica gara 5 a Taliere. Tilio. Grande partita di Trento. Oggi l'ha dominata. L'ha controllata. Venezia raramente ha dato l'impressione di essere nella partita. E di poterla recuperare e vincere. Però attenzione quando si vince una partita di così tanto. Poi c'è da aspettarsi la grande reazione. Il grande cuore dell'avversario.